Quella di oggi è l'ultima giornata di campagna elettorale nella quale è possibile pubblicare i sondaggi sulle regionali in Abruzzo. E sulle colonne del quotidiano Il Centro sono state pubblicate le due recentissime rilevazioni di Wimpol per conto del PD e noto sondaggi commissionato da un'associazione di promozione sociale. In entrambe, sulle intenzioni di voto, prevale Marsilio, ma nel sondaggio Wimpol il distacco è molto ridotto, 50,6% a fronte del 49,4% di D'Amico, mentre in quello di noto è di 6 punti, 53 Marsilio e 47 D'Amico. In entrambi i sondaggi si registra invece una prevalenza di D'Amico nella risposta riguardante la fiducia personale al candidato. In quello di Wimpol l'incremento di fiducia nei confronti dell'ex rettore è stimato al 59% contro il 47% del governatore ricandidato. In quello di noto, la domanda sulla fiducia, rivolta solo a chi già conosce il candidato, vede una prevalenza più lieve di D'Amico, 41%, rispetto al 40% di Marsilio, che però è molto più conosciuto dagli abruzzesi, 86% a fronte del 51% di D'Amico. Il quotidiano Il Centro, a cui vi rimandiamo, pubblica nel dettaglio anche i dati sulle liste, che in entrambi i sondaggi vedono la prevalenza del centrodestra, con Forza Italia che supera la Lega, mentre nel centrosinistra la forza trainante resta quella del PD. In entrambi i sondaggi rimane alto a due settimane dal voto il dato di astenuti e indecisi. Sarà proprio il loro orientamento, probabilmente, a decidere la partita. La premessa è obbligo, è un sondaggio a 15 giorni dal voto, quindi sicuramente non può essere interpretato come una previsione del voto, ma il sondaggio scatta la fotografia in tempo reale. È un po' come se avessimo analizzato la partenza, lo start dei due candidati. Ecco, in questo momento il candidato del centrodestra è leggermente avanti rispetto al candidato del centrosinistra, ma ci sono 15 giorni di campagna elettorale, c'è più del 20% di elettorato ancora indeciso. Quindi, per esperienza, dico anche che il voto si muove molto nell'ultima settimana, è il momento in cui decidono gli indecisi. Per cui, diciamo, può accadere di tutto. Questo risultato potrebbe essere quello che poi scaturisce dall'urna, ci potrebbe essere un incremento del candidato del centrosinistra, oppure addirittura un vantaggio superiore del candidato del centrodestra. Questo è un sondaggio che ha fotografato la realtà a 15 giorni dal voto e la realtà ci dice che il centrodestra è intorno al 53%, il centrosinistra è intorno al 47%, ma ci sono ben 15 giorni di campagna elettorale.